Il destino di Lorenzo Lotto è stato per secoli nelle mani di questi due uomini. A sinistra vedete Giorgio Vasari, il fondatore della storia dell'arte moderna, il quale menzionò Lorenzo Lotto in entrambe le edizioni delle vite, quella pubblicata nel 1550, brevemente, e quella pubblicata nel 1568. In entrambi i casi, lui ne parla all'interno della vita di un pittore meno geniale di Lorenzo Lotto, ma che dichiara essere stato suo grande amico, ossia Jacopo Negretti, detto Palma, il giovane. La presentazione che Vasari fa di Lorenzo Lotto e della sua produzione è un po' diminutiva. Non ci dice che è un genio, ci dice solo che ha realizzato alcuni lavori a Venezia e nelle Marche, e che poi nelle Marche, nel santuario di Loreto, è morto serenamente, dopo aver perso quasi completamente la voce, sperando di ritrovare l'unione con Dio. Dopo il 1568 non sono stati molti gli scrittori che si sono occupati di Lorenzo Lotto, e colui che letteralmente lo ha tolto dalla tomba era Bernard Berenson. Bernard Berenson, che è stato il fondatore della storia dell'arte in età moderna, grande conoscitore, maestro di conossership, era già diventato famoso perché aveva costruito gli elenchi di tantissime pitture della storia della pittura italiana, ma ancora molto giovane, nel 1895, volle scrivere un libro, che vedete sotto, monografico su Lorenzo Lotto, per dimostrare come, oltre a saper riconoscere le mani dei vari autori, il suo metodo gli consentiva di dare degli apporti importanti nella storia dell'arte. Se invece che Bernard Berenson a riscoprire Lorenzo Lotto fosse stato Gustavo Frizzoni o piuttosto Piero Gianuizzi, questa mostra probabilmente non ci sarebbe mai stata. Non è la prima mostra su Lorenzo Lotto. La prima grande mostra monografica venne organizzata nel 1953 a Venezia, a Palazzo Ducale, da uno studioso che si chiamava Piero Zampetti, e riuscì ad essere visitata anche dal vecchio Bernard Berenson, che nel frattempo aveva scritto anche altre monografie sempre su Lorenzo Lotto. Fu una mostra importantissima, di quelle che oggi sarebbe impossibile organizzare. Tranne gli affreschi di Lorenzo Lotto a Venezia arrivò tutto. Neppure il Prado, neppure il Louvre, neppure la National Gallery di Londra, neppure Washington, neppure Vienna, oggi potrebbero organizzare una cosa di questo genere. E fu il risultato di che cosa? Della fortuna di Lotto che si sviluppò dopo le ricerche di Bernard Berenson. Le mostre successive risalgono a non troppi decenni fa e sono molto parziali, molto focalizzate, ad esempio sulla sua presenza a Treviso, ne venne organizzata una nel 1980. Nelle Marche, nel 1981, in concomitanza con il quinto centenario della nascita di Lorenzo Lotto, che era nato a Venezia intorno al 1480-81, Piero Zampetti, quello che aveva organizzato la mostra a Venezia nel 1953, organizzò una mostra sulle opere di Lorenzo Lotto nelle Marche. Perché? Perché le Marche sono il luogo d'Italia, e quindi anche del mondo, che conserva il numero maggiore di opere di Lorenzo Lotto. Sono tantissime e impressionanti nella loro diversità e nella loro forza espressiva. La seconda grande mostra monografica, dopo quella di Venezia nel 1953, venne organizzata nel 1997, 98 e 99, prima a Washington, poi a Bergamo in Italia e poi a Louvre. E a curarla furono due professori che, nei giorni scorsi, hanno fatto qui due conferenze, Mauro Lucco e Peter Humphrey. Fu una mostra importantissima, a cui collaborò anche il conservatore della National Gallery di Washington, David Alan Brown, e che, lo vedo solo ora, è una sorpresa per me, ma lo potete capire dall'immagine in alto, aveva adottato un allestimento dai colori e dallo stile molto simile a quello che poi Jesus Moreno ha scelto, senza saperlo, in sintonia spirituale, diciamo così, per la mostra che sta qui vicino, proprio nel Prado. A Washington questa mostra aveva un sottotitolo Rediscovered Master of the Renaissance, cioè il maestro riscoperto del Rinascimento, che era un titolo che non poteva essere usato in Italia, dove su Lorenzo Lotto avevano fatto tante pubblicazioni, tante mostre, tante iniziative, e in Italia il sottotitolo era Il genio inquieto del Rinascimento, sottolineando due cose, da una parte la sua grandezza e dall'altra la sua inquietudine, la sua instabilità psicologica. Fu una mostra molto importante, con un numero di opere, però, che comprendevano le opere religiose, le opere mitologiche, i ritratti, sostanzialmente uguali a quella della mostra del Prado di adesso. Nel 2011, a Roma, venne organizzata da un professore dell'Università di Bergamo, una terza mostra monografica, alle scuderie del Quirinale. Una mostra che, secondo colui che era il direttore dei Musei Vaticani dell'epoca, Antonio Paolucci, fu la più bella mostra sull'otto mai realizzata. Ma, secondo molti altri osservatori, fu la mostra più banale mai organizzata su questo artista, così problematico, mai scontato. E vedete che anche l'allestimento ha uno stile molto diverso rispetto a quello sia di Washington, sia di Madrid. Poi ci furono altre mostre, diciamo, focalizzate su alcuni aspetti. A Venezia, sempre nel 2011, venne organizzata una mostra che ruotava attorno ai dipinti di Lorenzo Lotto, proveniente dall'Ermitage. Una piccola mostra alle gallerie dell'Accademia. E poi, dopo due anni, gran parte dei Lotto che stanno nelle Marche vennero portati in Piemonte per questa mostra organizzata dal soprintendente delle Marche che si intitola Un maestro del Rinascimento, Lorenzo Lotto nelle Marche, dove però c'erano anche alcuni ritratti che voi ritroverete nella mostra qui a Madrid. Lorenzo Lotto, dall'oblio, dall'abisso di indifferenza in cui era caduto dopo Vasari e prima di Berenson, oggi possiamo dire che è diventata una delle grandi stelle della storia dell'arte europea. Le sue opere possono servire per fare dei francobolli oppure per scrivere dei libri per bambini, per fare delle borse, delle tazze, delle magliette. Se a qualcuno di voi piacciono molto le opere di Lorenzo Lotto, online potete anche scegliere un suo dipinto per arrivare a arredare il vostro appartamento magari arredato con uno stile minimalista tipo Ikea. Lotto al Prado Lotto al Prado arriva perché lo ha voluto e deciso una persona molto precisa Miguel Falomir che da qualche tempo è direttore generale del Prado ma che all'epoca era un conservatore della pittura italiana. E questa idea come lui ha ricordato anche in occasione della conferenza stampa che abbiamo tenuto qualche giorno fa è nata nell'ambito di una grande mostra organizzata dal Prado insieme alla National Gallery di Londra in generale sul ritratto del rinascimento in Europa. Erano stati portati messi insieme 135 capolavori tre dei quali erano di Lorenzo Lotto. E guardando l'insieme di questa mostra Miguel Falomir si rese conto di una cosa evidente ma non scontata ossia che forse Lorenzo Lotto può non essere tecnicamente o artisticamente il più grande pittore di tutti i tempi ma sicuramente era il ritrattista più originale di tutti quelli messi insieme all'interno della rassegna del 2008 e quindi cominciò a pensare ad una mostra monografica su Lorenzo Lotto ritrattista e creò le condizioni per poterlo fare e creare le condizioni per organizzare una mostra di questo tipo è sempre molto difficile. Lui da subito seppe che molto probabilmente ci sarebbe stata una seconda sede ancora una volta la National Gallery di Londra che è diretta adesso da colui che è stato per tanti anni il direttore del Prado e poter organizzare una mostra in pandan tra Prado e National Gallery di Londra evidentemente dà forza e importanza ad un'iniziativa. quando nell'autunno del 2015 venne a Padova a chiedermi se volevo collaborare con lui in questa iniziativa io rimasi molto stupito per una ragione personale anzitutto perché non mi non mi ritenevo degno di un museo come il Prado e della National Gallery di Londra ma anche perché e la cosa mi aveva colpito subito io 25 anni prima esattamente 25 anni prima mi ero laureato con una tesi sulla giovinezza di Lorenzo Lotto e nella mia vita mi avrebbero potuto convincere che avrei potuto fare il calciatore o forse il ballerino o forse avrei potuto aprire un negozio di parrucchiere ma mai avrei potuto immaginare che un giorno mi sarei trovato qui in questa situazione e quindi diciamo che adesso io mi trovo a parlare di un sogno che non mi ero mai permesso di sognare nella mia vita allora la prima cosa che dissi a Miguel Fallomir gli dissi ma tu sei in grado di fare da sola questa mostra e lui disse no voglio farla con te e io ovviamente fui molto onorato e bisogna e fu necessario scegliere dei criteri anzitutto bisognava scegliere tra moltissimi ritratti eseguiti tra l'inizio del 1500 e la metà del 1500 ossia l'arco operativo di Lorenzo Lotto e lo vedete anche da questo semplice abbinamento il suo stile cambiò moltissimo in 50 anni sembrano quasi i risultati di due pittori diversi perché perché come tutti i grandi artisti e basta che pensiamo ai greco o a goia non rimangono fermi nell'idea che hanno della pittura e nel modo di guardare il mondo e i loro contemporanei cambiano con il tempo e cambiano in maniera imprevedibile anche per loro e quindi ci siamo trovati anzitutto a scegliere tra un numero consistente di ritratti di Lorenzo Lotto quando venne a Padova a farmi questa proposta Miguel Fallomira aveva ben in mente un concetto ed era quello che voleva non solo fare una mostra di capolavori di grandi capolavori con pittori come Lotto è facile prendi i libri guardi le immagini a colori sei il prado chiedi quelli e fai una mostra bellissima ma questo non è un modo di ragionare di un grande museo un grande museo vuole abbinare sempre la presentazione della grande arte di grandi capolavori con un ragionamento e questo ragionamento si collega in maniera inestricabile alla ricerca una ricerca scientifica seria e uno degli aspetti che Miguel Fallomira subito mi disse di voler approfondire era quello dell'individuare una serie di oggetti rappresentati da Lorenzo Lotto nei suoi ritratti e portarli accanto ai quadri perché questo? per illustrare qual era la dimensione materiale sociale e quotidiana del mondo rappresentato da Lorenzo Lotto qui vedete un dettaglio di un dipinto che si tra a Bergamo con una gentildonna che ha la pelliccia di un piccolo animale sulla spalla e si poteva pensare di portare degli esempi di disegno oppure di oggetti da mettere accanto al quadro per fare una cosa di questo genere bisogna coinvolgere tutta una serie di specialisti di specialisti di discipline molto particolari ad esempio se tu fai una mostra sui ritratti è evidente che nel catalogo c'è bisogno di qualcuno che ti spiega le caratteristiche degli abiti indossati dai personaggi ma quanti specialisti al mondo credete che sono veramente in grado di spiegare gli abiti di Tiziano di Palma il Vecchio di Botticelli o di Lorenzo Lotto sono pochissimi e in questo caso noi abbiamo scelto alla massima specialista di abiti e tessuti di Venezia del Rinascimento Veneziano che si chiama Doretta d'Avanzo Poli la quale disse subito di sì poi per gli oggetti necessariamente abbiamo pensato al massimo esperto al mondo di arti applicate e questo esperto è Alvar Gonzales Palacios uno dei grandi storici dell'arte italiani anche se originario di Cuba ma è un professore cosmopolita che è entrato nei musei e nelle collezioni private più importanti di tutto il mondo e ci sembrava che fosse la persona più adatta gli facemmo questa proposta lui accettò ci fu un incontro in casa sua a Roma nel suo bel palazzo di Roma e mi rimangono molto impresse due sue considerazioni se si fa una mostra al Prado e alla National Gallery di Londra dobbiamo sempre ricordarci che siamo in due cattedrali della storia dell'arte non si può sbagliare niente e quando si scelgono i ritratti di Lorenzo Lotto se non vogliamo fare un dispetto a Lorenzo Lotto bisogna scegliere le cose più belle più sicure e più in ordine poi Alvar Gonzales Palacios ebbe una serie di problemi e fu costretto a rinunciare però queste sue indicazioni che avevamo condiviso con Miguel Fallomir da subito ci rimasero dentro e devo dire che si rispecchiano anche nelle scelte della mostra nella necessità di sostituire Alvar Gonzales Palacios Miguel mi aveva detto guarda se tu puoi scegliere tra un international star e un giovane che ha voglia di darsi da fare e di cercare di dire delle cose nuove scegli il giovane e abbiamo scelto in questo caso un giovane tedesco che si chiama Peter Ludeman che ha affrontato un aspetto molto delicato della questione ossia come ci si comporta di fronte alla in un ritratto alla presenza di un oggetto particolare una lampada appunto una pelliccia un anello un gioiello un libro sono degli oggetti di uso quotidiano e basta o hanno magari un significato simbolico all'epoca molto preciso è difficilissimo rispondere ma in alcuni casi è possibile e lui nel catalogo ci spiega quali criteri possono essere adottati in questo caso giovani 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 si era appena addottorato all'università di Bologna un giovane studioso con una tesi sul libro dei conti di Lorenzo Lotto e lo abbiamo coinvolto un professore molto famoso dell'università di Padova uno storico con cui io avevo lavorato era appena andato in pensione gli ho chiesto hai voglia di dedicare un anno della tua vita a cercare tutto quello che non sappiamo dal punto di vista archivistico su Lorenzo Lotto e lui mi ha detto sì e quando a un certo punto abbiamo dovuto immaginare una grande panoramica introduttiva ho chiesto a Miguel Falomir vuoi un nome e ho detto un nome molto importante della storia anglosassone o vuoi quello che secondo me è l'autore che può illustrare davvero in profondità il mondo la Venezia l'Italia e la crisi di Lorenzo Lotto lui non ha avuto dubbio scegliamo Federica Ambrosini e ad esempio Giuseppe Gullino si è talmente immerso nella ricerca di Lorenzo Lotto che addirittura ha voluto disegnare qual era il suo percorso da casa fino alla sua bottega un altro nome che non conosce nessuno neanche in Italia solo a Bergamo qualcuno che abbiamo convolto in una mostra al Prado e alla National Gallery di Londra e questo signore qui che si chiama Gian Mario Petrò è uno straordinario ricercatore d'archivio straordinario quando io gli scrivevo per avere qualche indicazione dopo qualche minuto lui mi rispondeva con delle mail lunghissime mandandomi il documento originale che rispondeva alla mia domanda una passione senza limiti e quando io lo chiamavo al telefono avevo la sensazione strana di chiamare direttamente nella Bergamo del 1523 una presenza molto importante in questa impresa è stata questa di Mattias Vivell curator alla National Gallery di Londra che ha preso l'incarico di studiare disegni un problema molto difficile dal punto di vista filologico che lui ha assunto con grande serietà e con grande generosità e lo vedete bene da questo disegno che proviene dal British Museum che si presta molto bene al tema della mostra un ecclesiastico seduto al suo tavolo di lavoro con un libro aperto il fedele cagnolino in una stanza piena di oggetti e con il letto in secondo piano allora quella che voi vedete è una delle 30 mostre possibili sui ritratti di Lorenzo Lotto non esiste una formula matematica che ci dice qual è la migliore delle mostre possibili sui ritratti di Lorenzo Lotto ci sono degli occhi che guardano delle teste che ragionano ci si confronta e poi ci si confronta con la realtà ad esempio questo dipinto che si conserva al Getti a Los Angeles ci spiega due cose la prima è che non volevamo solo mettere insieme dei ritratti con delle figure isolate di persone raffigurate a mezzo busto a di tre quarti no anche questi sono dei ritratti anche se all'interno di una composizione religiosa è importante testimoniare anche questa dimensione ritrattistica ma questo quadro non lo troverete in mostra perché perché lo stato di conservazione non è affatto buono e quando ci siamo trovati nella condizione di decidere se era meglio avere un quadro che comunque testimoniasse una particolare iconografia ma non nei termini di eccellenza che avevamo deciso dovevano essere i criteri fondanti di questa selezione a quel punto dopo molte riflessioni abbiamo deciso di no e quindi questo quadro non è in mostra ma è illustrato nel catalogo questo di Vienna lo avremmo voluto tantissimo sarei andato in ginocchio al Kunsthistorisches Museum per poterlo avere ma gli austriaci non avrebbero avuto pietà di me perché i restauratori dissero non si muove da qui per ragioni di stato di conservazione per questo ritratto non sarei andato a Digione in ginocchio perché mi piace meno ma non fu possibile averlo perché prima di noi era stato chiesto in prestito da un altro museo che organizzava un'altra mostra Digione disse sì e quindi seriamente non si rimangiarono la parola e quindi anche questo ritratto lo trovate solo nel catalogo ci furono situazioni come questa Berlino la Gemalde Gallerie di Berlino fu molto generosa con noi ma aveva già prestato tre pezzi molto importanti non puoi chiedergli anche il quarto il quinto perché restano senza opere di Lorenzo Lotto è una questione di misura di equilibrio oltre che di bon ton internazionale e anche questo quadro ma non è una perdita terribile non è in mostra un dipinto come questo lo avremmo voluto in mostra ma il trusty della galleria Doria Panfili disse certo siamo molto onorati di poterlo prestare al Prado e alla National Gallery ci sarebbe però un piccolo dettaglio bisognerebbe pagare un fee di 50.000 euro vi va bene vero? Miguel Falomir gonfiò il petto in un moto d'orgoglio spagnolo e giustamente disse no non ci pieghiamo ai ricatti e questo quadro è rimasto a Roma poi alla fine ci fecero capire facendo una figura terribile che potevano anche darcelo per 30.000 euro ma il petto di Miguel Falomir era rimasto ancora bello gonfio e quindi giustamente questo quadro lo vedete nel catalogo in altri casi non sapevamo dov'era questo è l'unico ritratto di Lorenzo Lotto realizzato a Roma era stato venduto ad un'asta a New York nel 2011 faticavamo a capire chi erano gli attuali proprietari lo abbiamo scoperto poco prima di chiudere l'insieme della mostra e ci siamo fatti la solita domanda è di qualità altissima lo stato di conservazione è buono la risposta fu no e il quadro non è in mostra a Madrid ci furono delle situazioni molto particolari ad esempio in un grande museo di New York c'è uno dei pochissimi ritratti a disegno certamente databili di Lorenzo Lotto che è questo ritratto bellissimo di un uomo che si volta di profilo che sta sul verso di un disegno preparatorio per una pala del 1527 quindi noi sappiamo che questo disegno è certamente del 1527 o intorno al 1527 abbiamo dato per scontato che sarebbe arrivato in mostra ma un giorno ricevo una mail da Miguel Farlomir che ha come oggetto due parole giornata nefasta da New York ci avevano spiegato che questo disegno dal proprietario precedente era stato incollato su un cartoncino e non era tecnicamente possibile staccarlo i loro restauratori hanno tentato in tutti i modi ma staccarlo significava rovinarlo come capite ci sono molte ragioni per cui un quadro un disegno può non essere in una mostra come questa e sono tutte delle ragioni molto serie oppure molto discrezionali soggettive ci furono dei casi in cui abbiamo cercato fino all'ultimo di essere ottimisti una parte della critica ha pubblicato il dipinto che vedete a destra come una replica autografa di Lorenzo Lotto c'è un originale che si conserva all'ermitage di San Pietroburgo che vedete a sinistra e quest'altro dipinto è in tutto identico all'originale dell'ermitage non sapevamo dove si trovava era stato pubblicato dando pochissimi indizi della sua collocazione poi la vita è così strana per cui l'ho trovato ad alcune centinaia poche centinaia di chilometri dal luogo in cui io abito nella proprietà di una persona a cui io avevo voluto molto bene quando avevo 12 anni perché io facevo lo scout e lui era il mio capo scout era il mio Achela che quando avevo 18 anni se ne andò da Padova io assistetti al suo dio con le lacrime e in occasione della preparazione della mostra dei ritratti di Lorenzo Lotto l'ho ritrovato dopo 40 anni all'ultimo all'ultimo secondo all'ultimo secondo per cui è stato possibile che lui ha fatto fare un restauro ma i tempi erano così stretti per cui era difficile anche riuscire a organizzare un restauro sapevamo che veniva realizzato un restauro anche del quadro dell'ermitage ed era importante fare un restauro e delle analisi diagnostiche anche dell'esemplare del conte Paolo Bellavitis e siccome in questa strana vicenda lottesca che mi è capitata ho la fortuna di avere una madre che è qui in prima fila che è una restauratrice ho detto te la senti di restaurarlo in 20 giorni lei l'ha restaurato contemporaneamente al restauro che veniva fatto dell'originale di San Pietroburgo e alla fine di questi due lavori di restauro è stato chiarissimo che il quadro del conte Bellavitis non poteva essere un originale di Lorenzo Lotto perché vi racconto questo episodio perché per me è particolarmente significativo del fatto che fino all'ultimo secondo abbiamo cercato di trovare dei materiali nuovi che aiutassero a rendere la mostra sempre più innovativa ed è quel sposalizio tra ricerca e narrazione di cui vi avevo parlato prima in questa impresa Miguel Falomir Enrico Dal Pozzolo Mattias Vivel e tutti gli altri personaggi che vi ho citato prima non sono stati lasciati da soli c'è un gruppo di collaboratori che lavorano al Prado i cui nomi per me sono quelli di Rachel di Lola di Paloma di Erika di Paz io spero di non dimenticare qualcuno delle persone straordinarie che ci hanno aiutato fino all'ultimo non pensando a sabato o alla domenica Irene se questa mostra esiste è grazie a queste persone alle quali io personalmente rivolgo un ringraziamento di cuore e gli faccio un applauso siamo in giugno da un certo punto di vista i giochi sono fatti arrivano le opere c'è un progetto concordato tra Miguel Falomir e Jesus Moreno grande architetto allestitore e le opere vengono accompagnate in grandi scatole in teche vengono sballate e una alla volta vengono appese alle pareti è un momento molto emozionante e molto delicato perché capisci se quello che tu avevi immaginato virtualmente è corretto oppure no le mostre servono a questo a passare dalla teoria alla pratica dall'immaginazione alla realtà potrei farvi vedere molte immagini di questo allestimento guardate ad esempio il giovane restauratore russo di fronte al dipinto dell'ermitage di cui abbiamo parlato prima che lo accompagna e se lo guarda con un moto d'affetto poco prima che venga appeso alla parete e quindi entriamo nella mostra entriamo nella mostra con qualche considerazione poche perché la mostra deve parlare da sola non devo spiegarvela io ormai questa mostra è vostra non è più di Miguel Falomir mia di Mattias Vivel e di tutti quelli che ci hanno lavorato è vostra ed è una mostra che ci consente di seguire le tappe della carriera di Lorenzo Lotto in modo molto chiaro lui nasce a Venezia lavora in una città vicino a Venezia che si chiama Treviso e si forma nella cultura di chi? di Giovanni Bellini di Antonello da Messina di Carpazzo di questi grandi maestri ha la fortuna di conquistarsi la fiducia del vescovo di Treviso Bernardo De Rossi al quale fa un ritratto sia della parte esterna della sua persona sia della parte interna ha un'idea geniale quello di rappresentare i suoi orizzonti spirituali attraverso un'allegoria un'allegoria molto complicata che si imposta su un concetto bellissimo che è quello della capacità di rinnovarsi interiormente ogni giorno a questo concetto fa riferimento il tronco schiantato che però si rigenera le tre dimensioni dell'essere umano la dimensione animale la dimensione razionale e la dimensione spirituale compongono un discorso molto complicato e nei dettagli di questo quadro ritroviamo un concetto che fu molto caro a Lorenzo Lotto per tutta la sua vita ossia riuscire a liberarsi dalle gabbie della razionalità per acquisire quelle ali che ti consentono di andare verso Dio e di conoscerlo per quanto Dio è conoscibile in questo mondo noi abbiamo molte lettere molti scritti di Lorenzo Lotto che ci spiegano che aveva una religiosità molto forte profonda vera e infatti finì a farsi oblato nella basilica della Santa Casa di Loreto ma già in uno dei suoi capolavori giovanili vedete che viene visualizzato questo concetto che lo accompagnerà per tutta la vita da Treviso va nelle Marche poi va a Roma a Roma avremmo potuto raffigurarlo attraverso il ritratto del Ghetti che vi ho fatto vedere prima ma vi dico abbiamo deciso che non era adatto ad una mostra come questa e quindi c'è un piccolo salto che ci porta già verso Bergamo verso Bergamo con alcuni ritratti molto intensi che ce lo presentano diverso rispetto a come lo conoscevamo prima perché? perché lavora a Roma accanto a Raffaello a Michelangelo vede i capolavori dell'antico come può un pittore un artista vero rimanere se stesso quello che era prima di fronte a questi modelli a queste esperienze e quindi cambia e a Bergamo trova la sua dimensione la dimensione sociale culturale economica che gli consente di essere se stesso è un grande privilegio essere se stessi la vita non sempre lo consente dal punto di vista lavorativo a lui non glielo consentì in ogni fase della sua vita ma a Bergamo riuscì a sperimentare a proporre soluzioni particolari nuove ai suoi committenti e in questa sezione noi presentiamo questi voli pindarici questi nuovi modi di immaginare la pittura anche abbinati a degli oggetti questa camicia è una camicia degli anni di Lorenzo Lotto in uno stato di conservazione perfetto assolutamente uguale a quella indossata da Messer Marsilio è una mostra che ci fa sentire come il suo amore per la pittura diventava sempre più caldo e nella parte centrale della prima della prima sala vi sono alcuni dipinti religiosi con dei ritratti dentro che ci colpiscono per la potenza cromatica delle sue tinte ma io vi consiglio un esperimento guardate i quadri di Lorenzo Lotto nei dettagli perché questi dettagli sono parlanti guardate questo ritaglio di Messer Marsilio che mette la fede nuziale alla sua sposa Faustina perché perché è il fulcro di un nuovo modo di concepire il ritratto il doppio ritratto ed è un ritratto narrativo in movimento che fotografa un secondo un secondo dopo quella fede è al dito di Faustina vi raccomando di guardare i dettagli per chiedervi il perché di questa mosca su un fazzoletto un grande studioso come André Schastell che scrisse un libro intitolato Musca dipinta cioè Mosca dipinta e sottolineò una cosa importante ossia che in alcuni casi la mosca in un quadro antico è semplicemente un trompe l'oeil un inganno illusionistico ma in altri casi una mosca può fare riferimento al concetto di putrefazione di morte di malattia questo è un fazzoletto tenuto da un medico abbiamo la possibilità di dire qual è la soluzione ideale no però abbiamo la possibilità di porre la domanda porre il quesito ed è già molto e poi guardiamo questi dettagli immaginando anche quelle che potevano essere le conseguenze alla base di un dipinto che proviene da Berlino c'è questa bellissima natura morta con un ramo di ciliegie un'arancia e una lettera con la firma di Lorenzo Lotto e la data ma questo dettaglio a me personalmente fa venire in mente la canestra di frutta di Caravaggio che si formò in Lombardia nei luoghi e negli itinerari di Lorenzo Lotto nel Bergamasco è una semplice suggestione forse sì però piace farla a un certo punto come fa spesso nella sua vita decide di chiudere un capitolo della sua storia e di tornare a Venezia nella sua Venezia non ha neanche una casa si fa ospitare dai frati dominicani di San Giovanni e Paolo e al tesoriere di San Giovanni e Paolo Marco Antonio Luciani dedica questo ritratto bellissimo un ritratto che va gustato nei dettagli più stretti e che ci fanno capire che nella Venezia nel 1526 Lorenzo Lotto non doveva temere il confronto con nessun altro artista neppure Tiziano è il motivo per cui i grandi committenti come Andrea Odoni si fanno ritrarre da lui in modi totalmente anticonvenzionali e nella mostra voi vedete una parete che già da sola una piccola mostra gli oggetti parte degli oggetti rappresentati all'interno del quadro vengono presentati in una vetrina e in un disegno accanto mai era stata fatta questa giusta posizione questo accostamento di oggetti e quindi noi abbiamo la possibilità di passare dal busto di Adriano reale della colazione Grimani a come lo interpretò Lorenzo Lotto e tutto il resto e noi seguiamo lo sviluppo della sua carriera a Venezia dove vediamo che i suoi ritratti si allargano e comprendono gli ambienti il melanconico delle gallerie dell'accademia o il disegno che vi ho fatto vedere prima che certamente era preparatorio per un ritratto nella sala successiva ci sono delle opere che ruotano intorno ad una pala che sta qui perché era l'unico punto in cui poteva stare per poterla vedere da lontano anche se è un po' più tarda di esecuzione qui siamo in una fase che sta a cavallo tra la fine degli anni 20 e i primi anni 30 con capolavori straordinari come questo ritratto di donna in veste di Lucrezia dove sono i dettagli che ci colpiscono questa manica sarebbe stata oggetto di uno studio di Delacroix o di Manet e il gusto di appoggiare su un piano questo fiore reciso è un gusto molto moderno ci sono delle novità grazie all'intermediazione di una cara amica che è qui Lady Yadrank a Beresford Pierce che scuote la testa perché non voleva che dicessi il nome ma io lo faccio lo stesso perché grazie a te che questo quadro è qui noi abbiamo potuto capire uno dei segreti delle costruzioni di Lorenzo Lotto ossia come venivano inseriti dei quadri a copertura dei ritratti qui c'era in questa parte qua c'era una fessura nella quale dal basso verso l'alto venivano inseriti altri dipinti in relazione con il dipinto principale ma è solo in mostre che possiamo dimostrare tutto questo tappeti i tappeti Lotto perché perché i grandi conoscitori di tappeti della fine dell'Ottocento hanno imparato a riconoscerli attraverso e adattarli attraverso le pitture tra cui quelle di Lorenzo Lotto e poi improvvisamente anche nella sua Venezia vive un momento di difficoltà e scappa e se ne va nelle Marche dove realizza alcuni ritratti molto liberi le Marche per lui furono un'oasi di libertà molto liberi molto belli in movimento dinamici ma c'era un tarlo un qualcosa che lo mordeva da dentro un senso continuo della caducità della vita quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia del domani non c'è certezza scriveva Lorenzo De Medici la vita la giovinezza la bellezza sfioriscono e in uno di questi suoi ritratti troviamo un gentiluomo dall'aria melanconica che appoggia la sua mano su un cumulo di petali di rose e di gelsomini al centro del quale c'è un piccolo teschio e scappa di nuovo dalle Marche e torna a Venezia e a Venezia ha tantissime difficoltà di lavoro cerca di come dire di acquistare il favore dei committenti in tutti i modi anche cambiando il suo stile ritrattistico e si accosta a Tiziano noi eravamo convinti che questo quadro di Brera sarebbe stato il capolavoro della mostra e invece no nell'esposizione accanto a questo ritratto di architetto di Berlino anche il grande famosissimo uomo col guanto di Brera sembra quasi pallido e gracile rispetto al ritratto che fa del suo amico Giovannino del Coro che viene da Berlino è una fase della sua ritrattistica in cui proietta sui suoi committenti la paura di vivere questo è il ritratto di un medico insieme al figlio ma vedete il bambino è letteralmente terrorizzato il padre lo stringe ma anche lui non ha alcuna gioia è come se Lorenzo Lotto non riuscisse più a distinguere tra quello che viveva e ciò che doveva rappresentare e quindi è logico che i suoi clienti non erano contenti dei suoi ritratti eppure sono dei grandi capolavori che anticipano quasi Rembrandt dopo questa stanza c'è un passaggio con dei disegni tra questi disegni ce n'è uno molto interessante che viene da Berlino sul retro del quale una scritta ritratto di maestro Lorenzo Lotto veneziano è una scritta della metà del Cinquecento quindi molto credibile pubblicato come tale nel 2005 sul Barlington Magazine da Aidan Weston Lewis io non ci credevo che fosse di Lotto ma ci credeva Mattias Vivel che in fianco al ritratto di architetto di Berlino disse per me è la stessa cosa e lo abbiamo portato come attribuito a Lorenzo Lotto allora in questo caso la mostra serve per fare che cosa dei confronti molto semplici dei confronti che qualcuno dirà documentano la paternità l'autografia di Lorenzo Lotto e qualcun altro dirà non documentano la paternità di Lorenzo Lotto le mostre servono a questo e alla fine della sua vita torna ancora per l'ultima volta nelle Marche e l'ultima sala è dedicata per l'appunto agli ultimi ritratti dei ritratti che accompagniamo anche a degli oggetti guardate l'abito di questa gentildonna veneziana che era la moglie del suo padrone di casa questo quadro serve a pagare l'affitto e vicino a questo ritratto mettiamo una veste italiana della metà del Cinquecento molto simile vicino a questo ritratto di frate dominicano nelle vesti di San Pietro Martire c'è un libro molto simile a quello che lui sta reggendo in mano accanto a questo balestriere dai musei capitolini mettiamo dall'armeria reale spagnola di Madrid una balestra esattamente della metà del Cinquecento italiana e accanto ed è l'ultimo oggetto della mostra un suo testamento un suo testamento del mila e cinquecento e trentuno che porta un sigillo questo sigillo corrispondeva a un anello che lui portava al dito che intingeva nella cera lacca per poi imprimere questa immagine sui documenti in questo testamento c'è un uccello con qualcosa nel becco e qualcosa nelle zampe e è lo stesso Lorenzo Lotto a spiegarci cosa sta tenendo nel becco e nelle zampe è una gru che tiene il simbolo di prosperità di attività nel becco e un gioco sulle zampe e ci dice che è un simbolo e che la gru rappresenta l'animo umano che si deve liberare che deve volare nel cielo dello spirito liberandosi dal peso delle cose terrene secondo Giorgio Vasari lui alla fine della vita visse a Loreto dopo che aveva rinunciato a se stesso gli anni più belli della sua esistenza io credo che fu così quella che vedete però sapete non è l'unica mostra possibile sui ritratti di Lorenzo Lotto quando voi leggete un libro anche quei libri che si vantano di poter essere oggettivi e assolutamente assertivi nella ricostruzione di una storia di una verità in realtà sono sempre il risultato di due occhi e di un cervello in questo caso c'è il papà e la mamma della mostra spero di non essere irrispettoso nei confronti del direttore di questa mostra quindi questo è quello che noi abbiamo immaginato essere la migliore mostra possibile e realizzabile su Lorenzo Lotto ma è il risultato di quello che è il nostro è stato il nostro scambio è stata una mostra molto difficile in cui sono successe molte cose a un certo punto Francesco De Carolis durante la preparazione della mostra si è sposato e io ho voluto fargli un piccolo regalo c'era un quadro in mostra che voi tutti conoscete che è il ritratto di Messer Marsilio Casotti con la sua sposa che raffigura proprio il momento in cui si stanno sposando e questo ritratto io l'ho sempre abbinato nella mia esperienza personale a una canzone italiana del 1500 che se fosse stato possibile trasmettere anche in mostra l'avrei fatto ma io lo proposi a Miguel Falomir ma come allora di solito mi rispondeva sempre subito sì o no in questo caso non mi ha risposto forse non era possibile forse non era d'accordo allora io mandai la foto di Messer Marsilio con questa canzone a Francesco De Carolis e oltre che a Francesco De Carolis l'ho mandata alle persone che in quel momento stavano insieme a me a Miguel Falomir a Mattias Vivel vivendo dei momenti drammatici perché ci sono dei momenti realmente drammatici nella costruzione della mostra come un regalo che fosse stato mandato dal cielo da Lorenzo Lotto allora io adesso io vi chiedo una cortesia la mia conferenza è finita aspettate cinque minuti perché voglio che voi guardiate questo ritratto con una canzone italiana del Cinquecento sul tema dell'innamoramento e dello scambio dell'anello nuziale grazie che bella neva che troppurta che bella la neva che troppurta o bel facin d'amore di qui che neva ma vi purta che sei venuta a quest'ora grazie Grazie a tutti. 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 Grazie.